Più trasparenza nella gestione dei soldi pubblici ci vuole, maggiore efficacia nei controlli e soprattutto investire nella prevenzione per evitare il malaffare. Noi abbiamo tutto l'interesse a gestire bene i soldi pubblici e questo protocollo con la Guardia di Finanza è un protocollo che ho fortemente voluto, che va esattamente in questa direzione. Questa azione comune serve anche, lo diciamo nel protocollo, a mitigare gli impatti dell'attività di controllo che deve esserci nei confronti delle aziende, nei confronti dei privati. Deve esserci efficace, mirata, ma non invasiva come purtroppo in qualche caso è stato nel passato e lo scopo del protocollo è esattamente questo. Quindi semplificazione burocratica questo? Più efficace nei controlli perché i soldi spesi dalla regione devono essere spesi bene prevenendo situazioni di malaffare. Si volta pagina rispetto al passato, l'epoca che sono stati puliti dai protocolli in sostanza? Sono stati sostituiti e integrati, è una novità importante, interessante che può fare anche scuola, come sempre la Lombardia è innovativa da questo punto di vista. Ovviamente dovremo verificare l'efficacia e per questo ci sarà un tavolo di confronto costante tra la regione e la Guardia di Finanza per lo scambio di informazioni che è un atto fondamentale alla base dell'efficacia applicazione di questo protocollo. Diciamo che questo è un momento organizzativo in cui ci si confronta, si è messo a punto un sistema di selezione di situazioni particolari che la stessa regione, gli stessi funzionari possono riscontrare e poi anche un feedback relativamente a quello che facciamo. Poi ci sono anche delle situazioni particolari a rischio e un modo anche per sensibilizzare gli stessi funzionari ad individuare dietro alcune situazioni apparentemente normali invece delle anomalie e quindi la formazione pure che metteremo a punto con la regione servirà anche a selezionare e a cercare di fare le cose, i controlli mirati e giusti. La Guardia di Finanza è una forza di polizia, è un'attività investigativa, la regione è un ente istituzionale importante e aver fatto questo protocollo significa che c'è l'interesse a che sul fronte della spesa pubblica ci sia un rigore, un controllo importante, direi se possibile sempre più approfondito, ovviamente tutto è migliorabile e siamo qua per questo. Sanità tenete d'occhio in parte di mare? Certamente, anche sulla spesa sanitaria, la spesa sanitaria è una fetta importante della spesa pubblica, quindi noi già facciamo da tempo controlli in materia di spesa sanitaria, ci sono controlli di massa, sono ad esempio quelli che facciamo sui soggeneficiano indebitamente di esenzioni, ticket e via dicendo ci sono anche controlli su frodi più sofisticati, più particolari e la nostra attenzione sarà su tutti e due i fronti, come abbiamo fatto finora. Il salto di qualità di questo protocollo consiste sostanzialmente nel fatto che vi è il partner istituzionale della regione che acquisisce una sensibilità e la coltiva per individuare eventuali anomalie, eventuali frodi, eventuali patologie, collaborare col corpo della Guardia di Finanza per prevenire da una parte e eventualmente reprimere laddove necessario. Domani ci sarà la visita mia a Barcellona, incontrerò il presidente Artur Massa e una delegazione, come nella mia qualità di presidente dei quattro motori d'Europa. Sarà l'occasione anche per parlare dei rapporti tra la Lombardia e la Catalogna, per invitare il presidente Massa a giugno di quest'anno all'incontro che faremo qui a Milano con i presidenti delle quattro regioni motori d'Europa e invitarlo anche ad altri appuntamenti. Ci sarà una delegazione di imprenditori, di imprese, è la mia prima visita ufficiale fuori dalla Lombardia e sono davvero contento di farla in Catalogna. La Catalogna si sta prestando ad una prova difficile sul piano istituzionale interno che guardiamo con grande attenzione che è il referendum che i catalani faranno a novembre. Parleremo anche di questo e quindi una prima visita fuori dalla Lombardia ma particolarmente significativa. Visto che oggi c'è stato la direttiva di emergenza qui dell'Unione delle province Lombardia, so che lei si è sentito con il presidente delle province Venete Muraro. C'è la possibilità che ci sia un accordo comune per un ricorso? Se le province lo faranno sì, mi hanno chiesto alle regioni di farlo, cosa che sulla legge di stabilità non sul DDL del Rio perché non è ancora legge. Domani mattina sarò in audizione la prima commissione del Senato a parlare del DDL del Rio e esprimerò anche lì la contrarietà della regione Lombardia e delle regioni alla formulazione del DDL del Rio. In particolare per la Lombardia è complicata la situazione perché l'abolizione totale delle province comporterebbe la necessità di riprendere in carico da parte della regione tutti i servizi che la regione Lombardia nel corso degli anni ha trasferito alle province con un netto aumento dei costi, diminuzione dell'efficacia dei servizi in una fase transitoria non breve a tutto svantaggio dei cittadini. Questo dirò domani al Senato in Parlamento perché è giusto riformare il sistema ma bisogna farlo bene, non facendo aumentare i costi e diminuire i servizi.